Seconda edizione del nostro telegiornale, ben trovati, apriamo con il 73esimo anniversario dello statuto siciliano, festeggiato oggi ovviamente in tutta l'isola, ma in maniera particolare a Palermo, al Teatro Politeama, dove si è recato il Presidente della Regione nell'Omusumeci, appunto per la cerimonia ufficiale. Una straordinaria opportunità che diventa paravento per coprire politiche scellerate. Il 73esimo anniversario dello statuto autonomistico siciliano si celebra a Palermo con l'invito del Presidente della Regione nell'Omusumeci, perché quella della Regione siciliana sia autonomia della responsabilità e non dei privilegi, sebbene lo statuto dovrà essere rivisto contestualizzato con le norme nazionali ed europee. Omusumeci è chiaro nell'incontro che assieme all'assessore alla Galla ha tenuto oggi con centinaia di ragazzi siciliani per festeggiare appunto l'anniversario dell'autonomia siciliana. Noi l'autogoverno lo abbiamo già su alcune materie, la stessa cosa fanno le Regioni del Nord. L'importante è che non venga messo in discussione il fondo per equativo, nel senso che dobbiamo evitare che chi è ricco diventi sempre più ricco e chi è povero diventi sempre più povero. Quindi il principio di solidarietà, il richiamo che fa Mattarella, il Presidente Mattarella, una comunità coesa e solidale, significa che dobbiamo mantenere il fondo per equativo per aiutare le Regioni più deboli. Se noi dovessimo ricevere dallo Stato quello che lo Stato ci deve diventeremmo un Eldorado. Purtroppo, come sapete, per 70 anni lo Stato è stato predatore nei confronti della Sicilia. Non abbiamo avuto riconosciuti almeno 4 norme dello Statuto, in parte quelle finanziarie, in parte alcune norme di gestione come quella delle forze di polizia. Ci è stata negata l'Alta Corte e quindi il diritto a poter controllare la legittimità delle leggi senza bisogno di ricorrere agli organismi centrali. Insomma, meno centralismo romano e più vera e autentica autonomia, che non deve essere però l'alibi per fare porcherie in Sicilia e in Parlamento, come purtroppo è accaduto molto spesso nel passato, ma un'autonomia che serve a cogliere le opportunità che la Costituzione ci offre per recuperare questo divario che ancora purtroppo tristemente rimane con le Regioni del Nord. Una a due giorni catanese per Stefano Candiani, commissario della Lega in Sicilia, sottosegretario agli interni di Sesto, presenza delle forze dell'ordine nel territorio, tra i temi affrontati oltre ovviamente alle questioni squisitamente politiche. Stefano Candiani, plenipotenziario della Lega in Sicilia, due giorni a Catania, certamente per parlare di politiche europee in vista delle elezioni del 26 maggio, per spiegare il risultato della Lega alle scorse elezioni per il rinnovo delle amministrazioni cittadine, soprattutto di Gela e Caltanissetta, dove i candidati di quel partito sono stati sconfitti al ballottaggio, ma ancora più, visto che siamo a Catania, per trattare il tema del dissesto. Primo un incontro con il prefetto Claudio Sanmartino, poi con il sindaco Salvo Pogliese. L'impegno che ci stiamo mettendo è determinato, ne ho parlato ieri col prefetto, ne ho parlato col sindaco, ci siamo incontrati la settimana scorsa. Ecco, avremmo bisogno che la stessa condivisione che noi stiamo dando per la risoluzione dei problemi fosse estesa a tutto il Governo. Abbiamo in questo momento dei provvedimenti in corso, stiamo ovviamente in maniera determinata andandoli a sostenere, i tempi sono importanti, dobbiamo stringere e dico anche che i catanesi si stanno veramente relazionando in maniera molto molto corretta. La situazione che stanno vivendo i cittadini a Catania, la situazione che stanno vivendo i dipendenti del Comune è una situazione che rispetta, è una situazione che riconosco in tutta la sua drammaticità. L'obiettivo è riuscire a dare una risposta nei prossimi giorni, riuscire quindi con un provvedimento che non tratti come era stato apprendato al Governo solamente Roma, ma che tratti anche come noi abbiamo richiesto anche Catania e gli altri comuni in dissesto. Perché non ci si può dimenticare che questa è un'economia che dal dissesto del Comune può totalmente avere dei problemi e quindi non risollevarsi più è necessario ripartire. Cambiana annuncia che il prossimo 21 novembre il Presidente della Repubblica Mattarella sarà a Catania per celebrare l'ottantesimo del Corpo dei Vigili del Fuoco, manifestazione nazionale che appunto sarà ospitata dalla città dell'Elefante. Il Vice di Salvini al Ministero dell'Interno spiega pure di aver incontrato in città i vertici delle forze dell'ordine in vista del rinnovo della logistica che prevede il trasferimento delle caserme in alcuni degli edifici dismessi recentemente dalle strutture sanitarie regionali come ad esempio il Santo Bambino o il Vittorio Emanuele su cui si sta lavorando per adottare un progetto che possa essere confacente alle esigenze. Etna, 26 dicembre dello scorso anno, il terremoto 11 i comuni, a vario titolo terremotati, si attendono ancora alle risposte concrete del Governo dopo la fase emergenziale? Nella mia delica non c'è ovviamente quella del terremoto essendo sottosegretario all'interno però allo stesso tempo stiamo sollecitando al sottosegretario che ha delica in questo caso tutte le azioni, non solo per i comuni terremotati ma anche per l'indotto perché è chiaro che è una questione che si lega a un territorio che sta soffrendo anche una crisi economica. Abbiamo necessità che anche la Regione si metta al tavolo e tutti i soggetti siano attivi. Non è solo una questione di risorse per la ricostruzione ma è anche questione di regole che devono rendere la ricostruzione veloce. Cronaca, il giudice per le indagini preliminari di Catania accogliendo la richiesta della Procura ha archiviato l'inchiesta aperta nei confronti del comandante del capo missione della nave dell'ONG spagnola Proattivia Pro Open Arms. Erano indagati per associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina per lo sbarco a Pozzallo nel marzo del 2018 di 218 migranti soccorsi a largo della Libia. Intanto, un nuovo avviso di conclusione delle indagini che sostituisce a nulla quello emesso qualche mese fa è stato emesso oggi dalla Procura di Racunsa. Alla comandante e al capo missione sono contestati gli stessi reati. Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è violenza privata commessa nei confronti del Ministero dell'Interno attraverso il capo del Dipartimento delle Libertà Civile e dell'Immigrazione che, secondo l'accusa, sarebbe stato costretto a concedere alla nave dell'ONG spagnola l'approdo in un porto del territorio italiano dopo la mancata richiesta alle autorità maltesi, come era invece stato indicato dallo Stato di Bandiera. Intanto, Sea-Watch ha soccorso 65 persone da un gommone a 30 miglia, circa 60 chilometri, e dalle coste dibbiche nel pomeriggio di oggi. Ancora cronaca, ma di altro genere, Piazza Armerina è arrestato i due pregiudicati per furto aggravato ai danni di una stazione di servizio. Hanno fatto irruzione in un'area di servizio Eni di Via Manzoni a Piazza Armerina, nell'Ennese, forzando la porta in metallo, posta sul retro e poi entrando nel bar. Da qui hanno portato via 3.200 euro sigarette e grattevinci per un valore di circa 1.000 euro. I poliziotti del commissariato di Piazza Armerina e di carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato Giovanni Mirisciotti, di 42 anni, Giuseppe Aguglia, di 26, con le accuse di furto in concorso pluri-aggravato. I due sono stati denunciati per il possesso ingiustificato di Chiavi e Grimaldelli. Aguglia è stato anche segnalato per violazione di domicilio. Agenti di polizia e militari si sono recati in Via Manzoni, dove il proprietario dell'area di servizio è riferito di aver notato due persone scavalcare a una recinzione. Mirisciotti è stato rintracciato all'interno di una Peugeot 206. Il complice invece si è dato alla fuga a piedi attraversando i terreni vicini al distributore. Nella corsa ha lasciato cadere l'area furtiva, denaro ed attrezzi utilizzati per lo scasso. Sono stati trovati 83 pacchetti di sigarette e soldi contanti per un valore complessivo di circa 500 euro. Il ventisenne è stato poi rintracciato nella sua casa, addosso i segni della fuga durante la quale si era ferito. I due, su disposizione della Procura della Repubblica di Enna, sono stati condotti in carcere. Con la primavera e in vista dell'arrivo dell'estate sale l'attenzione della questura sul tema della sicurezza nelle ore serali nelle zone di Catania, ormai al centro della famosa Movida. Con l'approssimarsi della stagione estiva si alza la soglia d'attenzione delle forze dell'ordine nel controllo del territorio, particolare attenzione in riferimento alla Movida catanese, con misure già opportunamente predisposte dalla questura di Catania. Sì, assolutamente sì. Noi stiamo già da tempo lavorando su questo tema, non siamo all'anno zero, però adesso stiamo cercando di organizzarci ancora meglio. Il prefetto ha organizzato numerosi tavoli nei quali si stanno studiando tutti gli accorgimenti per poter rispondere in maniera sempre più adeguata a questo fenomeno della cosiddetta mala Movida, che è un fenomeno generale che esiste in tutte le grandi città di tutto il mondo e che ha degli aspetti positivi da un certo verso sul piano commerciale, sul piano economico, ma dall'altra faccia della medaglia sono tanti aspetti negativi che si deve cercare di combattere tutti insieme. Non è ovviamente solamente un fatto di repressione, è un fatto di gestione, ma noi come forze di polizia sicuramente dobbiamo fare la nostra parte e magari forse dobbiamo fare ancora meglio. Ci sono dei punti sensibili nello specifico? I punti sensibili sono i punti di aggregazione di queste persone che purtroppo sono molto ristretti, le strade sono quelle che sono e quindi si ritrovano decine di migliaia di persone in posti molto concentrati. Questo naturalmente aumenta il rischio, aumenta la pericolosità. aumenta i fastidi per i residenti. Insomma sono problemi di non facile momento che devono trovare, ripeto, una soluzione attraverso questi tavoli che il prefetto egregiamente sta organizzando in cui ci sono tutte le componenti, dal volontariato, dai comitati dei cittadini, al comune, alle forze di polizia. Insomma una prevenzione sostanziale? Una prevenzione reale, solo così oggi si possono risolvere i problemi. La prevenzione deve mirare alla radice delle problematiche, non deve solamente tamponarle. Solo così si può avere un miglioramento reale. Domenica si voterà a Catania per eleggere il nuovo presidente del circolo Sant'Agata, ma il comitato per la legalità della festa di Sant'Agata solleva la questione circa uno dei candidati alla presidenza. Domenica prossima inizierà il procedimento di elezione dei nuovi consigli direttivi delle associazioni agatine. Per la prima volta verranno seguiti i dettami dello statuto approvato recentemente dalla Civescovo di Catania, Cristina. Tra gli obiettivi garantire la massima legalità all'interno delle associazioni che sono parte integrante della festa. Per tal motivo, stamattina, il Comitato per la legalità della festa di Sant'Agata ha indetto una conferenza stampa per chiedere come le autorità ecclesiastiche intendano muoversi circa una criticità che sarebbe emersa anche attraverso un'inchiesta giornalistica. Secondo quanto evidenziato dal Comitato per la legalità della festa di Sant'Agata, il nome dell'imprenditore Alessandro Sicurella, pur senza problemi pendenti con la giustizia, emergerebbe dalle intercettazioni effettuate dai ROS nell'ambito dell'operazione Caos, circa condotte estorsive, il recupero di crediti contro soggetti esercenti attività imprenditoriali. Si tratta di un'operazione che, come è stato ricordato questa mattina, scardinò il clan Santa Paola con l'arresto di 30 persone. Tra queste, Luca Marino, intercettato in conversazione con Sicurella, che gli avrebbe chiesto di ottenere la restituzione di un credito di 700 euro da un negozio. Sicurella è uno dei candidati alla presidenza del Circolo Sant'Agata alla collegiata. Una data importante perché queste elezioni si svolgono con il nuovo statuto e sono veramente un passo avanti verso la legalità nella festa di Sant'Agata. Consideriamo molto importante anche il regolamento emanato dal coordinamento per le celebrazioni. Quindi questi due regolamenti fanno ben sperare per la festa. Purtroppo c'è qualcosa che è saltato all'occhio, grazie anche a un'investigazione del giornalista Dario De Ruga di Medio News. È saltato all'occhio che uno dei due candidati alla presidenza del Circolo di Sant'Agata, il signor Onofrio Alessandro Sicurella, pare che abbia chiesto l'aiuto del clan Santa Paola per un credito non saldato di un negozio in via Concordia, un negozio a mille. Pare quindi che questo signore Sicurella si sia rivolto a Luca Marino che è il capo per Santa Paola di San Giovanni Galermo e gli abbia chiesto appunto di ottenere per lui questo pagamento che lui non riusciva a ottenere. Qui noi abbiamo l'ordinanza di custodia cautolare per Luca Marino ed altri 30, quelli arrestati nella grande retata e poi abbiamo anche le intercettazioni operate dal ROS dei Carabinieri, dai quali si vince chiaramente che la signora Sicurella si è rivolta a questo capo mafia per ottenere il suo credito. Ora noi chiediamo alle associazioni gattine e alle autorità ecclesiali che cosa intendono fare con questa notizia, perché se hanno fiducia nell'investigazione della magistratura dei Carabinieri e allora devono decidere che cosa vogliono fare, se vogliono prendere le misure e quale misure vogliono prendere. Questa è la nostra domanda proprio per la credibilità delle elezioni e per fare un pochino di pulizia anche in questo ambiente che porta ancora in marchio in alcuni casi del passato. Voltiamo pagina, rimaniamo però in cronaca, ci spostiamo ad Acireale, incidente stradale nel pomeriggio a Capomolini, vediamo. L'ennesimo incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio in via Acapomolini, artiere di ingresso e uscita dall'omonima frazione a mare di Acireale. Nello scontro tra questa Vespa e una minicuper è rimasto leggermente ferito il giovane alla guida della due ruote, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ed è polemica per la mancata segnaletta corizzontale e verticale che trae in inganno gli automobilisti in uscita dalla borgata che invece di svoltare a destra tirano dritto per la parte di strada senza sbocco chiusa a seguito dell'apertura della rotatoria che ha ridisegnato le avviabilità scontrandosi inevitabilmente con i mezzi che percorrono il senso opposto di marcia. Non è la prima volta che al curvone di Capomolini si verificano incidenti anche gravi. I residenti da tempo segnalano al locale comando della Polizia Municipale e alla politica la situazione di pericolo inascoltati. Il cartello di stop di vetto è stato adeggiato su questo muretto in attesa di essere ricollocato. L'illuminazione pubblica carente non favorisce l'ottimale circolazione serale, specie tra coloro che non conoscono l'ingannevole interstazione viaria e istintivamente seguono il rettilineo invece di svoltare nella direzione corretta. E con l'arrivo della bella stagione la località marinale sia fuori dei turisti e il numero di incidenti registra un'impennata. Prima che ci scappi il morto bisogna intervenire ridisegnando la segnaletica orizzontale ormai sbiadita, ricollocando i necessari cartelli segnaletici. L'appello dei residenti di chi in passato è rimasto vittima di incidenti nello stesso luogo in cui si è verificato lo scontro di oggi. Stiamo aspettando, spero mai che non succeda qualcosa di molto grave perché non è segnalato, manca la segnaletica sia verticale che orizzontale e non è illuminato. Le lambade non ci sono, sono fulminate da più di un anno. Lei ha fatto la segnalazione? Abbiamo fatto segnalazione, io ho chiamato anche i carabinieri prima per segnalare quello che era successo. Nella speranza che si muove qualcosa e non succeda qualcosa di tragico. sicuramente chi non abita qua e sale in particolar modo la sera per mancanza di illuminazione, la segnaletica c'è ma non tanto si nota perché ci sono delle erbacce, io direi di mettere un dosso almeno 10 metri prima in modo che già con l'impatto del dosso rallenta e riesce a capire che non deve andare dritto perché se venite qua tutte le sere vedrete che una macchina su 10 va dritto con il rischio di fare incidenti, cosa che avvengono almeno minimo una volta al mese. Mia cognata circa un annetto fa scendeva per Capomulini, una macchina sale a tutta velocità e quasi l'ha portata sulla statale. Per non dire che 15 giorni fa io scendevo, stavo per scendere, una macchina sale a tutta velocità. Meno male che io mi sono fermata perché già lo so il tratto come funziona, mi sono fermata. Quel signore saliva perché era convinto che la strada è dritta e per miracolo di Dio sono qua. Insomma se dobbiamo fare qualcosa si deve sistemare prima che ci scappi morto. Intanto nel cuore di Acireale, Piazza Duomo e emergenza Sosta Selvaggia. Piazza Duomo da Cireale impreda la sosta selvaggia di agenti della municipale solo sporadiche apparizioni. Una brutta cartolina della città turistica nell'era del cambiamento solo annunciato. Auto parcheggiato ovunque, anche al centro della carreggiata, come questa vettura in sosta per diversi minuti, nell'indifferenza generale. I rigili intervengono su segnalazione, multano ed evaporano. Sanzioni solo ai più sfortunati, sebbene indisciplinati. Non un controllo costante come dovrebbe essere per una città che si professa civile e desiderosa di cambiare la zona 30. Buona l'idea. Un disastro nella realtà dal momento in cui la municipale motorizzata passa, vede e non provvede a sanzionare gli indisciplinati. Oltretutto multare a macchia di leopardo senza presidiare stabilmente almeno il cuore storico della città è una beffa per i malcapitati. Grave che i vigili intervengono e non vedono o fanno finta di non vedere o come testimoniano le immagini girate in un giorno di ordinaria folia ogni santo giorno dal momento in cui i vigili esercitano il loro compito applicando un brogliaccio di servizio discutibile. Ora sì, ora no. Peraltro ignorare la presenza di auto in sosta selvaggia non è pratica concessa a chi indossa una divisa. Si stava meglio quando si stava peggio con la ZTL che almeno liberava il centro dalle auto in maniera permanente e i vigili urbani di presenziare e di intervenire per tutti e non per i pochi sfortunati, sebbene vada a sé indisciplinati. Torniamo a Catania per parlare di solarium nella zona della scogliera. Partono i lavori per la piattaforma antistante, l'istituto nautico. Il comune riapre i termini rivolgendosi ai privati per la realizzazione del solarium invece di Piazza Europa. Sono già partiti i lavori del solarium antistante. L'istituto nautico di Catania ha realizzato con fondi provenienti dalla tassa di soggiorno direttamente dal comune catanese. La piattaforma tanto apprezzata dai catanesi che potranno così fruire di uno pezzo di scogliera altrimenti praticamente inaccessibile, verrà completata secondo le previsioni entro fine mese per essere già dunque fruibile nei primi giorni di giugno. Tempi lunghi invece per il solarium di Piazza Sciascia, lato mare di Piazza Europa. Ancora appeso ad un filo, il comune non ha i soldi per realizzare direttamente la struttura e ha già chiesto ai privati interventi diretti con in contropartita la gestione dell'impianto. Una prima manifestazione di interesse è andata deserta. Adesso l'amministrazione pogliese ha nuovamente pubblicato una scadenza, quella del 24 maggio per la presentazione di eventuali proposte. Abbiamo fatto un avviso invitando naturalmente i privati ad aderire così come abbiamo fatto per Natale e per Capodanno. In questo momento non registriamo adesioni sufficienti alla realizzazione della struttura. Abbiamo comunque lasciato i termini aperti e confidiamo che qualcuno faccia delle valutazioni perché alla fine installare un bar e avere una possibile proroga di altri due anni rispetto ai primi due iniziali significa recuperare abbondantemente l'investimento per il legname. Quindi vediamo se sarà possibile dare questo ulteriore tassello all'estate catanese. Fermo restando che oltre al solarium del nautico che contiamo di consegnare la prima settimana di giugno, la passarella di Licuti che abbiamo già deliberato e che sarà fatta a seguire, anche le spiagge libere già sono pronte, predisposte, ripulite, bonificate all'atredo, all'amianto e quindi sono già pronte all'utilizzo e potremmo anche in questo senso consegnarle i primi di giugno a cittadini e turisti. Disco verde dicevamo all'inizio per il solarium che sta nascendo di fronte all'istituto nautico. Sì, ci eravamo impegnati in questo senso, i lavori hanno preso il via l'altro ieri, stanno procedendo in modo molto spedito, contiamo di avere entro fine mese tutto consegnato e quindi poter inaugurare i primi giorni di giugno così per come ci eravamo impegnati. Tornando alla piattaforma di Piazza Europa, a carico del privato sono previsti alcuni servizi, tra questi il salvataggio e il primo soccorso, l'allestimento dei bagni chimici o delle strutture modulari, l'attività di pulizia costante giornaliera dello stesso solarium. In contropartita il privato avrà a disposizione spazi per eventuali sponsor commerciali, potrà installare i chioschetti bar, anche un ticket per eventuale utilizzo di sdraio, lettini oppure ombrelloni, seppure in un'area ben delimitata della stessa piattaforma secondo quello che è il progetto approvato. Tremestieri Etneo adesso sulle stanze dell'opposizione circa il regolamento cimiteriale replica il Presidente del Consiglio affermando si tratta di polemiche assolutamente sterili. Le questioni sollevate dalla portavoce al Consiglio Comunale di Tremestieri Etneo dei Cinque Stelle e Simona Pulvirenti sono polemiche sterili. Ne è certo il Presidente del Civico Consesso Ferdinando Smecca che replica le rimostranze dell'esponente grillina sul regolamento di polizia mortuaria approvato in Commissione Affari Generali la scorsa settimana e per il quale la consigliera aveva presentato un emendamento secondo il Presidente della stessa Commissione Giulio Pasqualini poco snello per essere preso in considerazione. Entrambi così stamani ai nostri microfoni. La creazione di un albo per le imprese per creare una rotazione ma c'è un mercato di libera concorrenza? Infatti come ha detto Pocanzi c'è un mercato di libera concorrenza ecco perché su quell'emendamento che ha presentato il Consigliere Cinque Stelle abbiamo dovuto dissentire in quanto non ci possiamo permettere assolutamente di creare delle rotazioni oppure fare un sorteggio come enunciava lei durante l'emendamento. Ci sono poi i problemi legati agli orari di apertura. Si sa che durante le funzioni comunque non si può non considerare un minimo di elasticità. Ecco non si può si deve considerare l'elasticità è importante essere elastico soprattutto in un momento molto delicato per quelli che sono i parenti appunto delle salme. Sulla questione cremazione invece? Sulla questione cremazione sono stati già inseriti quelli che sono degli articoli appunto che la stessa legge, i stessi decreti legislativi ci hanno indicato e noi ci siamo attenuti realmente a quello che è la legge attuale. E poi c'è invece il problema del cimitero degli animali che è stato previsto ma non ancora regolamentato. Allora in realtà io mi permetto di dissentire perché comunque sia noi all'articolo 86 abbiamo previsto quello che è il cimitero degli animali d'affezione. Lei nell'emendamento inserì un ulteriore regolamento che andava ad appesantire quello che era il regolamento attuale che già presenta circa 100 articoli. Mi dispiace di sentire da quelle che sono state le dichiarazioni della collega Pulvirenti ma il regolamento è stato trasmesso in commissione già da oltre due anni quindi tutti i consiglieri comunali hanno avuto la possibilità di discutere, di fare delle modifiche a regolamento stesso ma la collega Pulvirenti ha pensato bene di presentare un emendamento in consiglio comunale che stravolgeva del tutto quella che era stata l'impostazione data dalla commissione e pertanto il consiglio comunale non ha ritenuto possibile approvare le modifiche richieste alla collega Pulvirenti proprio anche per una questione di tempistiche visto che in un'ora, in due ore era impensabile modificare tutto quello che era il lavoro svolto negli ultimi due anni. Pensate che si tratti di polemiche sterili? Ma sicuramente quelle che sono state le richieste della consigliera Pulvirenti, viste nel dettaglio anche con i colleghi che hanno esaminato il regolamento, ci fanno dire di sì. A Milo, comune dell'Etna, nasce un comitato per Franco Battiato, il manestro ha da sempre un forte legame con la cittadina etnea, con quella comunità, sarà presto costituita anche una fondazione. A Milo nasce il comitato Milo e Franco Battiato che ha l'obiettivo di varare una fondazione dedicata alla figura poliedrica, multiforme e spirituale dell'artista. È costituito da un nucleo di professionisti e tecnici presieduto dal sindaco di Milo, Alfio Cosentino, e intende portare avanti iniziative multidisciplinari ispirate a temi artistici, culturali, umani e filosofici che ripercorreranno le molteplici attitudini di Battiato, uomo ma anche artista, riservando un'attenzione particolare a ciò che da sempre lo ha maggiormente ispirato, la tensione verso il sacro. Un vero e proprio ceracolo creativo in cui coltivare arte e conoscenza, uno strumento per celebrare, approfondire, salvaguardare, dibattere i temi cari all'artista anche nel contesto territoriale del vulcano Etna, in cui è nato e che tanto lo ha ispirato, dove ha deciso di vivere e operare. In questa cornice appraino tra i vigneti e la vegetazione fitta, a pochi passi dal centro. Questa di fatto è una fase propedeutica alla nascita della Costituzione vera e propria di una fondazione per l'artista. Sì, questo è l'obiettivo che ha il comitato, che nasce proprio per l'amore di tutti i componenti nei confronti di questo artista che così tanto ha dato al nostro territorio. Si vuole enfatizzare quello che è il legame che l'artista ha con il territorio di Milo e in particolare ma un po' con tutta la zona ionico-etnea, cioè l'Etna come fonte di energia che sicuramente il nostro battiato ha attinto a piene mani per sviluppare la sua arte. Sulla possibilità di far divenire la sua abitazione attualmente in vendita, luogo di cultura, Cosentino aggiunge. C'è invece chi sostiene che sarebbe il caso di preservarla, magari di acquistarla da parte della SIAE per farne un polo culturale? Chiaramente, certo. Sarebbe importante che la destinazione di questa struttura, visto che c'è questa volontà da parte di chi di dovere di metterla in vendita, fosse destinata a delle cose importanti. Oltre insomma è un luogo che ha rappresentato e che rappresenta sicuramente tanto penso per l'artista e per il territorio, quindi sarebbe bene preservarla e magari creare qualcosa che sia un cenacolo per artisti, musicisti di vario genere. Tant'è che oltretutto l'arte di battiato è poliedrica, lui si è cimentato in tante discipline riuscendo in maniera esemplare in tutte, quindi potrebbe essere un'idea questa qua. Ecco, il fatto che la fondazione non sia, la costituzione di una fondazione non sia ancora immediata, comunque non esclude che la stessa possa acquisire il bene nel tempo. Guardi, non lo so, potrebbe anche essere. Torniamo in cronaca per un incidente stradale autonomo all'alba di oggi lungo la strada provinciale 13, l'arteria stradale che collega Motta Sant'Anastasia alla base Nato di Sigonello, un giovane di nazionalità statunitense, la guida di un'autovettura ha perso il controllo per causa ancora in fase di accertamento. L'autovettura è uscita di strada, distruggendo due pali della Telecom e finendo in una piccola scarpata. Di nuovo in studio, nessun aggiornamento, ci fermiamo, termina la seconda edizione di Oratg che avete visto sul canale 89 del digitale terrestre in Sicilia di Ray TV, che avete seguito sul sito internet dell'emittente televisiva o sui canali social Facebook e Youtube, ovviamente sui canali social di Ray TV. Prossimo appuntamento con l'informazione con Oratg domani alle ore 14. Grazie per la vostra compagnia, buon proseguimento di serata a tutti e ci lasciamo con il meteo. Le previsioni meteo per la giornata di giovedì 16 maggio 2019. Ancora pioggia, precipitazioni a carattere temporalesco, instabilità diffusa in Sicilia. I mari da calmi a poco mossi. Le temperature, la più alta, 20 gradi ed aggrigento, seguono Catania e Siracusa, cui massima è di 18 gradi. 17 a Palermo e Trapani, nelle zone interne 11 gradi la massima, 6 la minima. Le temperature, la più alta, 20 gradi ed aggrigento, seguono Catania e Siracusa, cui massima